All'Aquila ci sono più candidati a sindaco che chiese agibili. Parole del sindaco Massimo Cialente, pronto a correre per il Cialente Bis nell'ambito della campagna elettorale più agguerrita del secolo. Nel centro-destra, tra Toto Sindaco e Toto Scommesse, il dibattito è tutto incentrato sulle primarie. Parte del PDL, Giulianta in testa, le vuole assolutamente, con l'intanto di far uscire allo scoperto, il candidato al momento più accreditato, vale a dire il vicepresidente del Consiglio regionale, Giorgio De Matteis, del Movimento per le Autonomie. Nella sfida interna al centro-sinistra, invece, contro Cialente, candidato dal suo stesso partito, il Partito Democratico, nonostante mal di pancia, Vittorio Festuccia, il candidato proposto dal CEL, Sinistra Ecologia Libertà, primario dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila e firmatario del Movimento Civico Appello per l'Aquila. Sarebbe la seconda volta per Cialente e Festuccia già in corsa alle primarie del 2007. Ne sono orgoglioso, dice Cialente, aspetto a braccia aperte anche tutti gli altri. No, anzitutto non è detto quello che succederà dopo. Ci sono queste primarie, io credo che sia comunque un onore per me correre alle primarie con le nostre rispettive proposte, insieme a Vittorio Festuccia, che oltre che essere un amico, un collega, è anche una persona che io stimo molto. Certo l'auspicio è quello che ci siano anche altri a correre alle primarie. Io ho sempre visto da anni e anni le primarie come un grande strumento di democrazia e tra l'altro gli dà un minimo di credibilità alle candidature, visto una crisi oggettiva che non è che svelo io dei partiti oggi. Chi vincerà le primarie sfiderà un esponente del centrodestra, si parla di De Mattese, però mi sembra che il centrodestra non sciolga il nodo se farà o meno le primarie, non si sa se De Mattese correrà come terzo polo. Io credo che in questo momento si stiano affacciando molti protagonisti, perché da certi aspetti, dicevo l'altro giorno, ci sono più candidati sindaci in questo momento che chiese agibili nel nostro comune. Dal 2007 però di cose ne sono cambiate nell'ambito della campagna elettorale sulla quale si gioca la ricostruzione dell'Aquila e che si annuncia piena di sorprese, Cialente lancia bordate al partito dell'Italia dei Valori, che in comune firma del libere dice, e poi appoggia la maggioranza, mentre fuori annuncia di voler correre da solo. Il partito dell'Italia dei Valori, infatti, di recente, ha fatto sapere di voler correre da solo con un proprio candidato a sindaco, individuato nella persona di Angelo Mancini, ma la polemica per lo più si è scatenata tra il segretario comunale del partito Italia dei Valori Lelio De Santis e il primo cittadino Cialente. Io dico una cosa, la giunta va da rifondazione comunista, tra Neselle e dopo le dimissioni di Masciocco, fino all'Udc. È una giunta che credo stia lavorando. L'Italia dei Valori è sempre stata in giunta, è sempre stata con lo stesso l'assessore Pezzopane Pierluigi, è sempre stato riconfermato. Devo dire che l'assessore Pezzopane è uno dei più presenti in giunta, per cui ha votato tutte le delibere, per cui mi trovo anche un pochettino così. Non vi spiego bene il motivo per il quale l'Italia dei Valori non si riconosce nell'alleanza di centro-sinistra, visto che ci sta governando con questa alleanza e visto che tra l'altro il Presidente dell'AFM è un esponente importante dell'Italia dei Valori. Per cui io non sollevo problemi, perché poi credo che queste cose vanno giudicate anche dai cittadini. Francamente io leggo accuse pesantissime, anche un po' di De Santis contro il cialentismo e così via, che fra l'altro non mi aspetto, perché De Santis ha fatto la domanda di essere Presidente di aziende, quindi fino a pochi mesi fa, per cui so che aveva chiesto, credo, dentro di dare i valori di entrare in giunta, per cui se io sono così terribile non capisco che interesse avesse a fare il Presidente di un'azienda con la giunta a Cialente.